Cosa intendi? C-come se potessimo! Beh, allora scusa se sono così noiosa. Ehi, finisci la Seiko, METDI LÀ! Mi spieghi perché dormi nel mio letto? Guarda, ti ho già preparato il futon. Seiko, faresti meglio a... Eh? Cosa? Ma non mi hai appena toccato il sedere? Eh? Eh? Notte! Eh? 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 Eh?